Ripercorsa in aula la genesi e le varie tappe dell'inchiesta Damasco II. Ieri, davanti al Tribunale di Latina, per sette ore è stato ascoltato il maresciallo Saverio, guida del nucleo investigativo provinciale dell'arma, l'investigatore che ha seguito dall'inizio le indagini che hanno portato all'attuale processo volto al far luce su una presunta associazione mafiosa, in grado di condizionare il comune di Fondi ed il MOF. Il PM dell'antimafia di Roma, Maria Cristina Palaia, e le difese hanno fatto numerose domande al maresciallo sul filone investigativo che ha dato il nome all'inchiesta, ovvero quello partito da accertamenti sulle attività del siriano Bouzhan Hassan, poi uscito di scena, e degli attuali imputati Carmelo Tripodo e Aldo Trani. L'investigatore ha ricordato come ben presto l'attività del nucleo investigativo si è concentrata sui rapporti tra i presunti mafiosi e l'allora assessore comunale dei lavori pubblici Riccardo Itzi. Il politico che avrebbe favorito le infiltrazioni mafiosi in comune, facendo ottenere alla ditta di pompe funebri parravano Trani e a quella di pulizia e l'Azionet Service di Tripodo, una serie di appalti e di pagamenti anticipati rispetto alle altre società. Il maresciallo Guida ha cercato di confermare tale ipotesi sulla scorta delle intercettazioni telefoniche effettuate e dei documenti acquisiti a palazzo, evidenziando anche l'apporto che, a condotte illecite, avrebbero dato alcuni funzionari comunali finiti sotto accusa. Dichiarazioni che hanno portato le difese a sollevare numerose eccezioni e alcuni puntati a rumoreggiare, costringendo spesso il presidente del collegio giudicante, il giudice Lucia Aielli, a intervenire per garantire l'ordine. Lungo anche l'esame relativamente ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione contestati tra gli altri, ha dei tecnici relativamente e soprattutto a tentativi di far passare sotto silenzio abusi edilizzi. E domande sui rapporti tra Izzi e l'immobiliarista Massimo Anastasio Di Fazio, detto Peticone, già condannato in Damasco 1 per usura. Tre ore e mezza per le domande del pubblico ministero, altrettante nel pomeriggio per quelle delle difese. Al concludere l'udienza è stato un intervento dell'avvocato Angelo Palmieri, che tra l'altro ha chiesto al maresciallo Guida se avesse mai sorpreso gli imputati in flagranza di reato o se avesse mai accertato minacce o intimidazioni fatte da Tripodo per ottenere qualcosa, come è tipico della condotta mafiosa. Quesiti a cui l'investigatore ha risposto negativamente. Si torna in aula a martedì per ascoltare altri carabinieri del nucleo investigativo provinciale.